Consentitemi di esprimere la totale solidarietà, lo faccio sempre, adesso lo sto facendo pubblicamente perché me lo chiedete, l'ho fatto in dibattiti, l'ho fatto andando negli ospedali, ai medici e gli infermieri in prima linea. Sono tra i mestieri più difficili, in contesti complicati, spesso avamposto, spesso bersaglio di situazioni di tensione, si scarica su chi sta in prima linea una rabbia individuale, collettiva o sociale o di familiari e quindi anche la mia sollecitazione che continua a chi ha il dovere di maggiormente prevenire questi fenomeni di fare di più. Questo vale per i medici e gli infermieri ma può valere per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico o di altri settori in prima linea. E' proprio perché la mia voce è stata sempre forte e noi siamo impegnati in prima linea, come tanti a Napoli, in avamposto in una delle città più difficili del mondo, da sindaco di Napoli e da persona che in prima linea non ha fatti, non con chiacchiere ma con i fatti, contrasta anche ogni forma di criminalità prendo le distanze in maniera più assoluta da questa frase del Presidente dell'Ordine dei Medici che considero inaccettabile sinceramente, per due ordini di motivi. Innanzitutto di mancanza di rispetto nei confronti di Iraq, perché Iraq è una città che ha subito la distruzione per colpa delle guerre, è una città che non esiste più, è stata devastata dall'Isis e conta decine e decine di migliaia di morti. Quindi è proprio una frase che mostra una totale assenza di sensibilità. E poi offensiva nei confronti di Napoli, tanto è vero che sono già arrivate molte istanze allo sportello difendi la città, perché equiparare Napoli a racca è veramente un'offesa inaccettabile e anzi rischia di non creare invece quell'attenzione massima che ci deve stare nei confronti di chi conduce un'ambulanza, di chi sta in un pronto soccorso e semmai chiedersi perché i tanti soldi della spesa sanitaria, vorrei vedere se voci così alte si sono elevate anche in quei casi, sono state sperperate, chi lo è dove sono andate a finire e non si creano condizioni di sicurezza, vorrei sapere perché non c'è più sicurezza vicino ai medici che operano in prima linea, gli infermieri, perché accadono queste cose alle ambulanze, magari sarebbe più opportuno fare un'analisi su dove vanno a finire i soldi, perché si taglia, perché si spreca e non prendersela contro una città che è complessa, ma una città che è molto più sicura di tante altre città, ce lo riconoscono tutti, dove le forze dell'ordine fanno un grande lavoro ed è una frase davvero inqualificabile ed infelice.